Partita questa finale, il Corsini a quattro, il Vigilato italiano assoluto, il Vigilato 64, arrivato quinto al settimane dei mondiali in Germania, l'Italia, il Brozo non lo sta a scendere, ma 4% più libero, Marco Orsi, che è proprio lui, così a quattro, a staccarsi, 21-64, il Vigilato italiano, 21-47, sopra il 22, cantetto del Vigilato italiano, Siano la veste, 22-42, il Vigilato italiano, il Vigilato italiano, il Vigilato italiano in seconda posizione, Lucio Spadaro, Siano la veste, 22-73,